La provincia di Salerno prosegue con ritmi serrati i lavori di collegamento della tangenziale di Salerno all'aeroporto Costa D'Amalfi-Capaccio-Primolotto. L'obiettivo dell'intervento era quello di rendere uniforme l'esistente viabilità di collegamento tra la SP417 Aversana, l'ingresso dell'aeroporto Costa D'Amalfi e la strada statale 18 Bellizzi. Sono stati completati da poco i cassoni per il trattamento delle acque di prima pioggia, dichiara il presidente della provincia Michele Strianese, e stiamo lavorando in anticipo sui tempi previsti. Infatti, in vista del prossimo completamento e avvio a regime dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi, noi come provincia stiamo anticipando tutti i lavori di messa in sicurezza, di adeguamento e rifunzionalizzazione di queste strade per essere pronti per quando partirà l'aeroporto. La provincia di Salerno guarda avanti con la consapevolezza di un ruolo strategico per quanto riguarda la viabilità a servizio di una infrastruttura che presto sarà il fulcro nodale dello sviluppo economico per il territorio provinciale e per tutto il sud, con conseguente ricaduta occupazionale e promozione dei vari comparti. Ad oggi sono stati completati almeno il 70% dei lavori che sono coordinati dal settore viabilità e trasporti diretto da Domenico Ranesi, supportato dal consigliere provinciale delegato alla viabilità Antonio Rescigno. Se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, in tre o quattro mesi sarà tutto terminato. Questo intervento di collegamento tangenziale di Salerno con l'aeroporto Costa d'Amalfi, Capaccio Primo Lotto, quindi è un cantiere molto importante, finanziato con fondi della regione Campania. Per questo voglio ringraziare il presidente Vincenzo De Luca che ci permette di realizzare un'adeguata viabilità di sicurezza a servizio del Costa d'Amalfi. Noi come provincia, conclude Estrianese, ce la mettiamo tutta portandoci avanti su quanto ci compete. La nostra comunità provinciale in questo momento drammatico, sia a livello sanitario che economico e sociale, può e deve guardare più serenamente al proprio futuro, collegare bene l'aeroporto. Significa permettere la corretta integrazione con il territorio con conseguente ripresa economica delle attività turistiche e dell'accoglienza delle attività agroalimentari e artigianali di tutte le piccole e medie imprese di cui è ricco il nostro tessuto economico. Sarà valorizzato il nostro enorme patrimonio culturale e paesaggistico, lavoro e sviluppo quindi per cui dobbiamo essere fiduciosi. Noi come provincia ci siamo, vicini alle nostre comunità, alle donne e agli uomini con le loro esigenze concrete.